C'erano i cani, c'era Calcutta e poi l'intorno, insomma, è partito tutto questo interesse. Ciao Francesco, grazie mille di essere qui. Come va? Bene, bene. È un periodo... Grazie a te. Tu sei qua perché ci siamo super innamorati del tuo ultimo film, che è Lovely Boy, che è uscito per Sky pochissimo tempo fa. Che racconta l'humus della trap romana attraverso il protagonista, che è Nick, che è un trapper. E ti volevo chiedere come prima cosa come è nata l'idea di scrivere questo film. È una domanda che mi hanno fatto un sacco di volte e ogni volta cerco di dare una risposta diversa per essere originale. Però se devo essere sincero, alla fine credo che sia partito proprio dall'osservazione di quello che stava succedendo qualche anno fa, quando ho cominciato a scrivere il film e mi sembrava interessante, anche in un momento in cui la trap stava già concludendo, diciamo, forse, il suo percorso. Mi interessava perché secondo me riusciva a raccontare meglio di tutte le altre scene musicali quello che stava succedendo al di là della musica. Il linguaggio della trap mi interessava molto perché mi sembrava molto contemporaneo. Quindi ho pensato fare un film su questa cosa qui forse potrebbe essere un modo per raccontare un pezzo di quello che sta succedendo ora. La prima volta che ho sentito il tuo nome era quando hai girato quel video dolcissimo di Calcutta, Cosa mi manchi a fare. Nei tuoi film, anche inoltra, si sente il tuo passato da regista musicale. Mi racconti il tuo rapporto che hai con la musica, anche, soprattutto con la musica delle generazioni che sono più giovani di te. Io sempre, cioè, al tempo, quando c'era Calcutta, diciamo, più o meno riuscivo a stare sul pezzo perché c'era l'indie che stava per esplodere e quindi io andavo, semplicemente cercavo le etichette indie e poi da lì videvo tutti i progetti, andavo al Fanful, a Roma, al Pigneto e riuscivo a stare dietro a quello che stava succedendo. Poi dopo ho un po' perso, diciamo, questa freschezza e credo che sia sempre più difficile. Poi ho 35 anni, mi voglio sentire giovane, ma comincio anche a sentirmi un po' vecchio da questo punto di vista. Perché poi la musica in realtà ti racconta tutto il resto, no? Eh, infatti, secondo te, a cosa è di peso questo cambiamento drastico della musica negli ultimi dieci anni? Prima si andava a sentire i concerti indie al Circo degli Artisti, poi è cambiato qualcosa. Beh, sì. In realtà quella cosa lì, cioè quel momento che io ho vissuto dall'interno, diciamo dall'interno perché poi in realtà non andavo neanche ai concerti al Circo degli Artisti che stavo a casa, però comunque insomma vedevo, capivo quello che stava succedendo. Secondo me ha fatto un po' da base. Prima, io mi ricordo che i ragazzi, cioè fino ai 20, 25 anni, non ascoltavano la musica italiana, per lo più. E invece da quel momento in poi i giovani ragazzi hanno cominciato, ma anche gli adolescenti, cioè Calcutta, mi ricordo, c'erano i bambini che cantavano, i 13 anni, i 20 anni. E quindi c'è stato un interesse verso la musica italiana che è nata da quel momento lì. C'erano i cani, c'era Calcutta e poi l'intorno insomma è partito tutto questo interesse. E quindi anche proprio economicamente le etichette indipendenti hanno iniziato ad avere quasi la possibilità di investire, di produrre, di credere. Io mi ricordo che fino a pochi anni prima, cioè insomma le etichette indipendenti erano proprio, erano dei poveracci, dei poveri, disperati che cercavano di fare questi dischi e non ascoltava nessuno. Invece a un certo punto è diventato business, è diventato che io conosco i ragazzi Bombadischi, no, tramite Calcutta e poi tutti gli altri. E da lì a un certo punto Bombadischi iniziava a parlare con, venivano qua a Milano, iniziavano a prendere accordi, sponsor, cose che fino a qualche anno prima erano veramente, era utopia. E poi da lì c'è stato un interesse per tutto il resto della musica, si è capito che insomma con la musica si poteva sopravvivere. Che cosa hanno in comune Napoli, dove è ambientato il Tra e Roma? Sono due città in realtà molto simili, sono tutte e due molto sporche, sono due città che, ma molto caotiche, anarchiche. Sì ci sono dei quartieri, secondo me è tipo Centocelle e quella Frigrotta, ci sono dei quartieri che si somigliano. Poi sono anche molto diverse, in realtà diciamo che Napoli dall'esterno può sembrare una cosa, può sembrare molto colorata, piena di musica, di concerti, quello che mi chiedono sempre, ma com'è bello vivere, in realtà a Napoli non c'è niente. Vabbè c'è stata la pandemia, ma anche prima c'è tutta questa vita, questo folklore. Smentisci tutto. Purtroppo ci sono pochissimi locali, c'è pochissima vita culturale, invece a Roma questo almeno c'è, c'è la musica, c'è un po' più di arte. Mi racconti della scelta degli attori, che a parte alcuni volti noti, ci sono anche molte persone sconosciute. Mi interessa anche e soprattutto la parte, cioè di come è costruito la parte della comunità del film. Diciamo che è partito un po' da Andrea Carpezzano, che è il protagonista, che è stato il primo ad essere proprio scelto, senza neanche forse un provino. E poi, proprio perché lui è molto bravo a recitare senza recitare, nel senso che riesce ad essere se stesso, ed essere sempre naturale a non far sentire mai la battuta e a me piace questo stile qua. Infatti ci sono molti altri attori che invece non sono professionisti, ci sono molti personaggi che invece sono reali. Io ho scritto la sceneggiatura proprio che è un modo, secondo me, per rendere i personaggi non finti ma veri, partendo dalle persone che magari già conoscevo o che avevo visto da qualche parte. E quindi in sceneggiatura, per esempio, c'è Daniele, che è il tutor di Nick, di Lovely Boy, che era il mio coinquilino, diciamo, storico, con cui ho vissuto dieci anni a Roma. Lui ha lavorato dieci anni in comunità e ha anche una personalità molto particolare, perché è molto grande, ha questi occhi intensi, ed è uno che non parla mai e quando parla dice delle cose in maniera molto netta. Cavolo, come si fa con una persona che non fa per niente quel mestiere? Perché lui è un personaggio riuscitissimo, cioè esattamente come lo descrivi anche nel film, che però non è così semplice. Guarda, in realtà poi, diciamo, è stato tutto molto così naturale, nel senso che ho scritto questo personaggio, mi piaceva che nel film, in cui ci sono tantissimi personaggi che parlano, che dicono, che straparlano, che mentre Nick invece è uno che sta zitto fondamentalmente, poi in realtà, ecco, venisse smosso da un altro che stava zitto. Quindi ci sono questi due personaggi silenziosi in questo caos totale che quasi comunicano senza parlare, no? È su questa cosa qui che basano poi il loro rapporto. E poi, semplicemente, ho scritto questo personaggio, poi ho confessato a Daniele di aver scritto un film su di lui, praticamente mezzo film su di lui, e lui mi ha detto a suo modo, vabbè, allora lo faccio io. E ho detto, non lo so, non hai mai fatto niente, vediamo, non lo so, devo parlare con la produzione, facciamo un provino. Alla fine abbiamo fatto i provini, insomma, e lui era lui, funzionava, e quindi sono riuscito a convincere con la produzione a portare dentro come secondo personaggio, non attore. Anche altre persone della comunità erano... Sì, c'è un'altra storia molto bella, perché, insomma, ci tengo molto a un altro personaggio che è Martino, che è sempre nella comunità, è, diciamo, un bolognese, un po' stronzo, e lui, avevo visto un documentario dieci anni fa, che si chiama Biancaneve, che è un documentario sulla coca, sull'utilizzo della coca, e tra i vari personaggi c'è Ozzulù, dei 99 post, e poi c'è questo Martino, che a un certo punto diventa il protagonista di questo documentario, perché è un personaggio incredibile, e lui in quel momento stava, insomma, abbastanza sotto, e quel documentario è un mio personale cult, quindi io questo Martino l'avevo scritto come, insomma, immaginando lui, e poi dopo ho provato a cercarlo, l'ho trovato completamente cambiato, e, perché intanto anche lui ha fatto un percorso, e sono riuscito a mettere anche lui, insomma, in questo, nel cast del film, e avere poi dei personaggi che hanno vissuto queste storie, no, che alla fine uno dice, è stato dieci anni in comunità, però, cioè, dieci anni in comunità, se non li vivi non puoi capire cosa significa, no, se non hai abusato, se non sei stato dipendente dalle sostanze, è difficile, invece avere sul set due persone che ci hanno lavorato, che hanno vissuto questa cosa, porta tutto il set in una condizione di verità. Un'altra cosa che mi ha impressionato molto è come racconti Roma, e la romanità da napoletano, il film è stato scritto a quattro mani con Pepe Fiore, che però è sempre napoletano. Secondo te è necessario essere, in un certo modo, distaccati per descrivere in quel modo lì Roma? Secondo me, no, a parte che io ho 15 anni, ci ho vissuto a Roma, quindi la conosco, e Roma è una città che in realtà da una parte ha una fortissima identità, dall'altra in realtà è un po' un contenitore di tante cose, anche una città postmoderna, nel senso che è attaccata alle sue radici e contemporaneamente no. Chi ha vissuto a Roma, insomma, sa di cosa parlo, non è facilissimo capirlo, però in realtà Roma è una città che non ti accoglie per niente, è una città meno accogliente della storia, però tutti ci si trovano alla fine a vivere. E quasi se ne innamorano, io ci ho messo 7-8 anni, però a un certo punto ho detto, ma forse Roma mi piace, dopo che per anni, insomma, l'ho sempre trovata indivibile. E poi, in realtà, ecco, questa è una storia che aveva senso più a Roma che non a Napoli, che non a Milano, ci sono dei personaggi che sono proprio tipici romani, e poi la cosa che mi interessava di più è rispetto anche alla trap, e la connotazione che ha preso la trap a Roma rispetto alle altre città, che mentre magari sia a Milano che a Napoli ha questa connotazione un po' della periferia, del riscatto, diciamo, sociale. A Roma, invece, un po', sia Love Gang, Dar Polo, tutte le realtà, diciamo, più grosse della trap vengono da un ambiente borghese. Quindi questa cosa del riscatto dei soldi, delle armi, c'è come contenuto, ma è assolutamente falso. E questa cosa qua mi interessava, perché faceva parte del linguaggio, piuttosto che della storia, insomma, un po' classica di chi viene dalla periferia e si riscatta tramite, insomma, l'arte. A proposito di trap, le musiche sembrano dei pezzi della Dark Polo. Cioè, come sono nate le canzoni che canta la band di Nick? Allora, diciamo che noi abbiamo cercato di fare delle musiche che non somigliassero a niente. Beh, però, invece, hanno molto della trap che sentiamo. Sì, in realtà, quello che abbiamo fatto, nel momento in cui abbiamo scritto il film, che era, insomma, ormai un anno fa, un anno e mezzo fa, abbiamo cercato di pensare di fare delle musiche futuristiche, no? Perché tu, quando appunto il film esce, le musiche sono state registrate un anno prima, oggi che tu fai un disco e dopo tre mesi è superato, e quindi abbiamo cercato di pensare a fare qualcosa di diverso, di originale. E quindi, insomma, abbiamo cercato un po' di staccarci da quello che era il contesto reale, però senza proprio allontanarcene troppo. E niente, sono usciti questi cinque pezzi, che poi sono una sorta di EP, che secondo me ha una sua proprio dignità. È uscito anche, insomma, è stato pubblicato. Il disco, secondo me, ha proprio una sua autonomia e assenso al di là del film. E questo era importante, perché comunque è un film che parla di musica, insomma. Tra l'altro, cioè, parlare, raccontare la trap è abbastanza difficile, perché se da una parte è molto facile diventare moralisti in un senso vecchio, dall'altra rischi di essere, di toccare delle punte di entusiasmo un po' cieco. Invece mi sembra che tu l'abbia raccontata in questo film, quasi come se fosse un documentario che non ha niente da dimostrare, mi sbaglio? No, no, per me è sempre, non lo so, sempre pensato che sia giusto raccontare le storie in questo modo, cercando di raccontare una storia senza poi dover mettere la mano dell'autore che ti sottolinea, guarda, che comunque lui si è drogato e quindi è un cattivo ragazzo. Oppure, che bella la droga, cioè stare in mezzo e raccontare quello che succede cioè far vedere quello che succede senza dare, voler dare un messaggio, secondo me è il mio modo di raccontare i film e i film che mi piacciono di più sono dei film che non si schierano, non ti dicono cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché forse è giusto e sbagliato non è così evidente poi trovarlo nella vita reale, quindi io cerco di portare questa cosa anche nei film. Però c'è una cosa che dice Nick a un certo punto che è che la trap non ha contenuti, tu pensi che sia vero? Ah, in realtà lui non dice la trap non ha contenuti, lui gli chiede Daniele appunto, dice cosa fai? A me non piace il rap, lui dice io non faccio rap, e lui dice cosa fai? Ma boh, non lo so, cioè quello che facciamo non ha un nome, il rap è diverso perché c'è i contenuti e noi invece no, ma lo facciamo apposta. E alla fine però il contenuto della trap è la forma, non la sostanza. In realtà è molto diverso perché dire trap significa tante cose, da chi la trap magari l'ha vissuta, che è venuto magari negli Stati Uniti dalle trap house e quindi viene da quel mondo lì, dal ghetto, c'è chi invece fa trap e viene dai quartieri insomma da Monteverde o da Rione Monti o da Trastevere, no? Quindi dipende, c'è chi magari ha vissuto effettivamente delle storie, racconta le sue storie e chi invece no, prende delle immagini, anche degli stereotipi che sono della trap e ci gioca poi fondamentalmente. Nel caso di Nick nel film è questo, cioè lui parla di, non so, di droghe, di donne, di auto, insomma le solite cose, quando poi in realtà non è quello il concetto, il concetto è facciamo un disco per spaccare, per svoltare, per avere successo, non è l'obiettivo, non è quello di fare i soldi. A proposito di droghe Nick è un tossico e lo è come lo sono adesso tantissimi ragazzini romani, cioè la sussione delle sostanze, ora mi sento tipo Stanisla Rochelle che demonizza la parola droga, però è, cioè mi sembra che stia cambiando, nel senso che verte molto di più verso le sostanze downer che upper come quelle che si prendevano per andare a ballare tu che, cioè secondo te come mai e che idea ti sei fatto di questo cambiamento? Secondo me mentre noi stiamo parlando già sta cambiando questa cosa, quindi voler dare diciamo una risposta all'utilizzo delle sostanze, poi io faccio cinema, insomma ho cercato di studiare l'argomento però non mi sento di dare una risposta definitiva sulla questione, sicuramente ecco proprio le sostanze che ora si utilizzano di più o comunque delle sostanze che in realtà non sono neanche sostanze stupefacenti tipo le benzodiazepine, tutto, che si utilizzano poi mischiate all'alcol eccetera non hanno neanche un effetto ricreativo, non hanno neanche un effetto down nel senso come può dare l'eroina o la ketamina sono delle sostanze che semplicemente ti fanno, ti inviscono, ti dissociano, non provocano un vero piacere ecco, cioè questo che manca, comunque c'è almeno per la mia generazione droga uguale piacere fondamentalmente perciò mi drogo, poi dopo ci sono tutti i problemi, le dipendenze, invece una droga che in realtà non ti dà piacere e diciamo è una cosa che è difficile da capire per chi magari non lo vive, io sicuramente però insomma questa è la direzione Ti faccio una domanda, l'ultima slegata da tutto quello di cui abbiamo parlato perché tu hai avuto un figlio da pochissimo in un momento storico complicatissimo, ti fa paura qualcosa riguardo alla paternità? No, nel senso no, trovo che sia una cosa bellissima in assoluto, io spesso mi ritrovo a guardare mio figlio e sto quasi per piangere, mi commuovo di cose proprio semplicissime è una banalità a dirlo ma è una delle cose più belle e più anche interessanti che puoi fare nella vita perché comunque ecco, soprattutto alla mia età, quando comunque a un certo punto più o meno tutte le cose le hai fatte alla fine insomma ritrovarsi a bere l'ennesima birra, l'ennesima grappa fuori al fanful a Roma al perditempo a Napoli, insomma a un certo punto quelle cose lì le hai viste, le hai fatte invece avere un figlio ti porta a vedere dei posti diversi, dei mondi diversi a vedere come percepisce un bambino il mondo che è una cosa assurda e che noi abbiamo dimenticato e ricordarsi di come si impara a camminare, a leggere, a ragionare è una cosa incredibile Grazie mille e complimenti perché il film mi è veramente piaciuto molto e consiglio a chi ci sta guardando di andarlo a vedere su Sky Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille